Facciamo due milioni di visualizzazioni stasera, non credo, questa è materia, capitale europea della cultura, non mi bruciare la carne maestro, non mi bruciare il discorso, facciamo brutta figura. Chi ha scoperto l'America? Chi è stato? Dimelo tu però, scusami. Viste che sei stato spagnoli a scoprire l'America, no? Sì, più o meno, non è così? No? E chi è stato? Cristobal Colonna. Di dove era Cristobal? Cristobal Colonna. Bravo, non cambiate il nomi tanto in spagnolo, ma non lo cambiate! E' nostra amici che faccio a questa campagna! Salute! 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 A mille di questi giorni ragazzi, auguroni per il vostro viaggio! Grazie, è il mio che si è posto a dire, Francesco! E' tra l'altro un po' di vino, non lo hai dato! E' scherzo! Meno male che si è ripreso! Io te l'avevo detto che il vino era poco, i calcoli di appartiglioni! E' un po' male! E' un po' male! E' un po' male! Quindi va un po' male questo giorno! 2 giorni avevamo pregosto a Taranto l'ar экитан ownà no habeno casa in Taranto E' iniziato bisogno fare un po' la Vorre inversione e andare un po' al nord E' 16 l penetrationi tra una cosa e l'altra tra cui c'è un po' di comprare e guardate dove c'è acqua, si è stato super tardi, era quasi di noche, entramos alla fine a una caffèteria, che è questa, a prendere un caffè, ma che nulla di tutto l'acqua, e a parlare un po' di quello che sollevamo fare nei caffè, parlare un po' con la gente locale, e quando già non siamo arrivati da qui, pensavamo che abbiamo e abbiamo trovato un sito guapo dove dormire, poi si è stato l'acqua, normalmente non facciamo questo, arriviamo tardi, siamo fuori da una città dove è facile acampare, però ayer è stato così, e se è stato così, è perché siamo a conoscere a queste bellissime persone che ci invitarono a cenare, una barbacoa con pollo, insalata, molto vino, molto cervezza, e la verda è che passiamo una nocce spettaculare, e ora vi insegno la floristeria, qui abbiamo dormito, qui è stato il salvatore, in la floristeria, qui nel cesped artificiale abbiamo dormito, qui ho fatto dei lavori quando ero nino, venivo qua a questa casa che sta qui, e nel frattempo stavano ristrutturando questa chiesa qui, sotto questa chiesa c'erano tutte tombe, tutte tombe, preti, bambini, ancora con tutte le ossa all'interno, c'era una stanza dove avevano messo tutte le ossa, e ora, non so, si è aperto. Per qui facendo i turisti in Matera, con due autotono, ben magi, che ci stanno facendo qui di guia privato, la verda è che sta super guapa questa città, sta molto guapa. e in questi 20 anni hanno ristrutturato un po' tutto, e ora si vedo la città bene la città, la verda. Lui per la guida. Vieni, Yuki. No, lui, lui, numero uno. E' boccio? Sì. Lo volete comprare, signore, è in vendita? E' boccio. Guarda, se non avessi avuto i gatti? Se volete vi posso vendere a lui un ottimo prezzo, ma il cane non è in vendita. così le fanno i ragazzi. Da tua età? Sì. Sono le prese d'aria. Questa è fatta a male. Molto, molto semplice. Il tuffo è molto semplice da lavorare. Da lavorare. Brava, vieni, vieni, vieni. Piano piano, piano piano. Ma che brava. Questa è la patrona di Matera. La patrona di Matera. qui siamo non abbiamo salito di Matera non abbiamo salito sta llovendo tutto il tempo si vede guapo e dopo la visita guiata ha iniziato a llover a morte e abbiamo detto ci siamo abbiamo parlato con loro e sono davvero che siamo che siamo qui e non abbiamo dormito in la floristeria di Francesco e dormito in il terreno di Massimo e qui siamo cucinando una buona pasta qui qui sta la tartaruga la tartaruga è una tortuga che cogeron hace un mes hace cosa di un mes che si les enganchò nel motor di un tractor e le rompio un poco il cascarone e la tiene qui hasta che se cure e poi dice che la soltaranno vamos adentro a vedere che stanno cucinando a vedere tutto vicino si apprecia di più colorato a punto giusto il tricolore italiano bianco rosso mi dispiace per voi che lo state ammirando però non potete sentire l'odore il sapore il tricolore il tricolore il tricolore il tricolore il tricolore il tricolore Grazie a tutti